ah che bello, oggi finalmente sono al centro commerciale da sola vediamo cosa posso vedere, comprare, un po' di soldini da parte bella quella gonna, ma caspita costa tantissimo oh che bel colore di capelli tutto bene ragazzina? eh sì, mi stavi fissando ah mi scusi, è che mi piace molto il suo colore di capelli, come l'ha fatto? ah grazie, beh vedi, dopo due o tre lavaggi va via è uno di quei colori che puoi fare con prodotti che compri nel supermercato oh mi piacerebbe tanto cambiare colore di capelli, quello era bellissimo mmm, chissà wow, quello è dorato che meraviglia ehi ragazzina, hai bisogno di qualcosa? no, 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 tutto bene, grazie ma come, come ha fatto a farsi questo colore di capelli? ah, vieni, ti mostro i prodotti che abbiamo sono prodotti senza ammoniaca che dopo due o tre lavaggi vanno via guarda, questi sono quelli che abbiamo al momento oro come i miei oppure varie tonalità di rosa abbiamo anche questo azzurro chiaro wow fantastico e vanno via quelli dopo il lavaggio sì, uno o due lavaggi wow, allora ne prenderò uno ma quale prendo? oro è molto bello ma questa scatola chissà che colore colintiene blu, fucsia beh, prenderò questa scatola sorpresa mi incuriosisce molto qualche soldino da parte speriamo non costi troppo vieni, vieni ti faccio il conto e vediamo subito oh, sei fortunata proprio su questa scatola oggi c'è uno sconto costa solo 6 euro wow, fantastico chissà cosa diranno la mamma e tutti e anche Dave mamma Emma, sono tornata oh, ciao tesoro allora com'è andato il tuo pomeriggio al centro commerciale da sola? benone che cosa c'è Emanue e Anna? che cos'è? piccotti? per favore no, devo andare in bagno adesso allora, allora, allora vediamo cosa c'è scritto sulla scatola ma come devo fare dunque andare in doccia bagnarmi i capelli mettere il prodotto e poi lasciare asciugare ok, perfetto sembra semplicissimo wow, sono emozionata per prima cosa via sotto la doccia a lavarsi i capelli e poi via con il prodotto nuovo chissà che colore verrà fuori ok, ora li lascio asciugare oh, Anna, ma cosa fai? Julian, via! via dal bagno, via! via! ma che fai? via ho detto mmm, va bene va ok, ora che sono rimasti in posa un po' dovremmo esserci wow non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo il mio colore preferito sì mi piace un sacco chissà cosa diranno la mamma ed Emma e anche Julian e poi Dave devo correre subito a farglielo vedere sono super emozionata ehi là famiglia guardate qua Anna cosa hai fatto? ti sei colorata i capelli sì, mamma l'ho preso oggi al centro commerciale è una tinta senza ammoniaca e poi va via Anna Anna tutti ti prenderanno in giro a scuola ma cosa ti salta in mente? Anna no dovevi chiedere prima alla mamma non si fanno queste cose è solo nove anni Anna non ci credo Anna ma come hai potuto senza dirlo a me? dovevamo parlarne non si fanno queste cose è solo nove anni non ci si colore i capelli mamma va via adesso andiamo subito a lavarlo infatti speriamo che venga via ma pensa a te pensa a te Anna ma mamma a me piace tanto è il mio colore preferito Anna a me piace tanto mi piace sembri un unicorno è bello no forza adesso andiamo in bagno mamma ti prego no Anna non si discute non si discute sono anche molto arrabbiata forza vai subito sotto la doccia e ci laviamo sperando che venga via ma si viene via dai piegati un po' che adesso ti sciacquo uffa mamma allora allora è venuto via si fortunatamente è venuto via il colore cosa l'hai saltato in mente era orribile con quel viola Giulia ma a me piaceva invece era un unicorno era bello povera Anna ora è triste secondo me Anna non è essere triste andate via dai Anna si scherzava andate via basta tu hai anche riso Giulia ma no Anna era uno scherzo Anna a me piacevi tanto sembri l'unicorno del tuo ammadio e è bello grazie dai Anna vieni vieni che giochiamo anche con la carrossina giochiamo con i bambolotti dai dai Anna non essere triste su era solo un colore quando sarai più grande forse potrai farlo ciao 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 Grazie.